Grazie a tutti. 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 di Balottana, amico della Contessa. È un parco bellissimo, soprattutto un parco oltre che bellissimo oggi anche valorizzato con un intervento molto lungimirante per restituire a chi vive qui ma anche a chi vive in Sardegna e speriamo in futuro anche a chi verrà da fuori la bellezza di un luogo, la bellezza di edifici e la bellezza anche di una storia perché non dimentichiamoci che qui c'è una storia importantissima per la Sardegna che è la storia della prima creazione della ferrovia che ha permesso di connettere il nord con il sud della Sardegna. Quindi c'è storia, cultura, beni culturali appunto, un bellissimo ambiente naturale. C'è tutto perché questo luogo possa diventare un attrattore anche per chi viene da fuori, anche per i turisti. È tutto per questa edizione del nostro telegiornale, grazie per essere rimasti in nostra compagnia e buon proseguimento su Nova TV. Grazie a tutti.